Il sindaco d'Imperia Carlo Capacci ha azzerato la giunta comunale ridimensionandola da 5 a 4 assessori a seguito delle dimissioni dell'assessore Simone Vassallo. La nuova variazione ha portato un'ulteriore ridistribuzione delle deleghe. Guido Abbo resta vice sindaco con delega a lavori pubblici, trasporto pubblico locale, Atemgas, informatizzazione, innovazione tecnologica, amministrazione finanziaria e patrimonio. Enrica Fresi è assessore urbanistica, edilizia pubblica e privata. Maria Teresa Parodi è assessore a commercio, industria, artigianato, pesca, agricoltura, fiere mercati, servizi per le imprese, arredo urbano, verde pubblico, servizi demografici, statistica, urp. Nicola Podestà acquisisce parte delle deleghe in precedenza di Vassallo ed è quindi assessore a cultura, università, educazione ambientale, osservatorio meteorologico, attività e servizi educativi, servizi e politiche sociali, politiche giovanili, del lavoro e comunitarie, immigrazioni, pari opportunità, turismo, sport, promozione del territorio, protezione civile. Le materie non espressamente delegate agli assessori rimangono per legge di competenza del sindaco, che assume sotto la propria direzione personale affari legali, contratti, società partecipate, polizia municipale, viabilità, ambiente, porto turistico, porti, demanio, spiagge e manifestazioni, delega quest'ultima, che era di Vassallo. Ermal Metta e Fabrizio Moro con il brano Il brano di Ermal Metta e Fabrizio Moro ha particolarmente colpito per essere una risposta forte contro il terrorismo e contro gli attentati di matrice islamica messi a segno negli ultimi anni in Europa. La serata finale del festival è stata guardata da 12 milioni di persone, un dato in linea con quello della passata edizione della Kermes Canora. A Ron, con il brano Almeno Pensami, un inedito di Lucio Dalla, è andato il premio della critica Mia Martini. Stato sociale si è giudicato il premio Sarastampa-Lucio Dalla. Il premio Sergio Endrigo è andato invece a Vanoni-Bungaro-Pacifico per la migliore interpretazione. A Mirko Elcane è stato segnato il premio Bardotti per il miglior testo, a Gazze premio per la miglior composizione musicale intitolato Giancarlo Bigazzi. Ermal Metta e Fabrizio Moro hanno infine ricevuto anche il premio Team Music per il brano più ascoltato sulla app musicale dei telefonini, segno che la Vittorial Festival quest'anno è andata a un brano che ha effettivamente colpito il pubblico trovando un largo apprezzamento. Beh intanto grazie a tutti, mi sembra incredibile anche perché ero convinto che saremmo arrivati terzi, visto che ho fatto un abbonamento di tre anni però quest'anno mi è saltato. A parte questo modo per così stemperare un attimino questa attenzione sono veramente molto 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 felice, molto felice non tanto per quello che rappresenta la classifica, questo premio, ma per quello che rappresenta la canzone. Sono felice che sia arrivato veramente a tutti. E' un progetto su cui abbiamo speso tantissime energie, tanta fatica e ci abbiamo messo coraggio e speranza per iniziare a divulgare questo messaggio proprio qui dal palco dell'Arison, da questa città dove tutto è nato. Sono estremamente felice di come è andata ovviamente, ma la cosa più bella, la dico in questo momento, perché mi sa che non glielo ho mai detto, è che ho trovato un nuovo amico e questo mi rende felice. Questa è la vittoria più grande. Il direttore artistico Claudio Baglioni in occasione del Festival di Sanremo sabato pomeriggio, tra una prova e l'altra, ha incontrato gli studenti nell'ambito della campagna educativa Una vita da social, format della Polizia Postale, presente a Sanremo con il truc di Una vita da social, iniziativa itinerante con cui la Polizia Postale ha partecipato al Festival 2018. Sentiamo il messaggio di Baglioni che ha risposto alle domande al microfono di Marco Valerio Cervellini. Tu ormai da tempo sei entrato a far parte della famiglia della Polizia di Stato e sei il motore del Festival di Sanremo. C'è una ricerca addirittura che dice che 7 ragazzi su 10 stanno seguendo il Festival di Sanremo. Allora volevo chiederti, il tuo rapporto con i social è poi un messaggio da lanciare in tutti coloro che vivono il mondo online con maggiore sicurezza? Il mio rapporto con i social è discontinuo. Ogni tanto mi appassiono, poi ogni tanto mi spassiono. Perché è un rapporto che deve essere appunto responsabile, che deve essere fatto bene. I social servono ad avvicinare e quindi devono contenere la gentilezza, non devono essere riempiti di messaggi volgari o di odio, perché poi è persino troppo facile fare qualcosa del genere. Invece possono essere usati in modo positivo, specialmente per i ragazzi, perché servono ad avere più vicinanza, più informazione, ci si sente meno soli. Ecco, l'importante è che il social sia veramente un'attività socializzante, quindi che mette insieme gli individui in diverse parti poi del mondo. E questo insomma ci fa sentire appunto meno soli e più partecipi, per avere un futuro veramente degno di essere chiamato tale. Anche Fiorello, ospite la prima serata del festival, è intervenuto nell'ambito della campagna della Polizia Postale. Siamo tutti ormai, siamo tutti dentro, siamo tutti nella palude, siamo tutti nella giungla. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna comunque imparare a stare a non affogare nella giungla. Come? Stando veramente attenti. Soprattutto non vi fidate mai ragazzi, non vi fidate mai di chi vi scrive. Non sai mai chi c'è dall'altra parte. La parola è verificare. Non dico non dovete stare sui social, perché alla fine ci siamo tutti. Ci si diverte, può essere anche positivo, con gli amici, con chi si conosce, scambiare pareri, qualsiasi altra cosa. Aido a Sanremo, perché Claudio Baglioni ci ha donato una sua canzone, che è stata magistralmente reinterpretata da Danilo Rea. E la vita è adesso. Per noi questo tema è molto importante, perché rappresenta la vita ritrovata dopo il trapianto. Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, quest'anno compie 45 anni di attività, in cui promuoviamo la cultura della donazione, cercando di informare correttamente i cittadini affinché possano scegliere di dire di sé alla donazione. 9.000 sono le persone in lista di attesa per trapianto che aspettano un organo per ritornare a una vita piena. E la vita adesso è proprio, diciamo, la vita ritrovata dopo il trapianto, dopo un periodo di malattia che ha in qualche maniera determinato una sofferenza, non solo della persona malata, ma di tutta la sua famiglia. Il trapianto invece ritorna alla vita piena, alla vita piena di affetti, per cui a ritornare a fare i figli, i genitori, a ritrovare la possibilità di ritornare al lavoro, ad avere di nuovo una vita sociale insieme con gli amici. Oltre alla musica che Claudio Baglioni ci ha regalato, abbiamo avuto anche un noto personaggio, Gianni Ippoliti, che ci ha concesso di fare il testimonial per noi, per uno spot che va a informare i cittadini che si può donare anche ad età avanzata. Questo spot sarà la nostra campagna di informazione per l'anno 2018. È un appuntamento importante perché Sanremo è una vetrina che invita molte persone, in particolare i giovani, e i giovani sono le persone che devono essere sensibilizzate ai problemi della donazione e di conseguenza quindi è il luogo giusto, è il momento giusto per ricordare come ci siano dei momenti nella vita di noi, ma qualche volta non siamo avvisati di quanto ci può avvenire e quindi riflettere ogni tanto sulle tematiche della donazione non fa mai male. Tutte le persone che vengono a Sanremo sono innamorate della musica. Noi speriamo che anche per la donazione si innamorino. Mi sembra giusto ringraziare per il momento che abbiamo potuto avere di divulgare notizie e informazioni sulla donazione, chiudendo dicendo che un donatore moltiplica la vita. Grazie ancora a tutti. Domenica agrodolce per la Sanremese che al comunale non va oltre lo 0-0 contro l'Argentina ma resta in testa al girone E a più 6 sulle inseguitrici. Nella prima frazione di gioco tante occasioni da una parte e dall'altra. Passano solo 8 minuti e Bernici prova con il Mancino, salvalaggio devia in angolo. Al dodicesimo grande occasione per la Sanremese. Rotulo serve in profondità Lauria che salta il difensore avversario e serve Lobosco. Il numero 9 Biancazzurro prova il cross ma la difesa ospite e respinge in angolo. 4 minuti più tardi su calcio d'angolo discalzi la difesa armese e respinge. Rotulo prova la conclusione di Mancino, palla alta. Al ventesimo Ruggero tenta il Mancino da fuori, salvalaggio si distende e devia in angolo. Un minuto più tardi Gaudio ci prova di testa, palla a lato per un soffio. 20 secondi più tardi Rotulo serve Gagliardi in mezzo. Il numero 11 Mattuziano conclude al volo, palla alta di poco. Al 34esimo il tentativo di Gagliardi finisce debolmente tra le braccia di Mandelli dopo una combinazione in aria. Dopo un minuto Lauria si libera con un tocco morbido di un difesore avversario e prova il Mancino al volo. La palla esce a fil di palo alla sinistra del portiere. Sarà in mese ancora pericolosa al 38esimo con Rotulo che si smarca in aria e tenta la conclusione che però finisce alta sulla traversa. Al 42esimo Lobosco si gira in aria ma il suo tentativo finisce a lato alla destra del portiere. La prima frazione di gioco si chiude al 44esimo quando Martelli impegna a salvalaggio, palla in angolo. Nella ripresa l'Argentina si dimostra subito capace di mettere in difficoltà la capolista. Al 47esimo il numero 11 Pierini impegna a salvalaggio. Il portiere matuziano che poi risulterà essere il migliore in campo viene di nuovo chiamato in causa. Prima al 55esimo su una conclusione di Gaudio, poi al 58esimo sulla girata di Vitiello. Al 65esimo ancora salvalaggio protagonista con la parata su calcio di punizione battuta da Ruggero. Dieci minuti più tardi la San Renese protesta per un salvataggio sulla linea del portiere avversario su calcio d'angolo battuta da Lauria. Per il direttore di gara la palla non è entrata. Al minuto 88esimo Lauria ci prova con una girata su assist di Gagliardi ma la sua conclusione finisce alta. In pieno recupero grande occasione per il numero 25 servito da un traversone di Fiore. Prova la soluzione al volo. La palla finisce sul fondo sfiorando il palo alla destra del portiere. Complice il pareggio del Ponsacco e la sconfitta del Rialforte Quercetta, la San Renese si mantiene in vetta alla classifica più 6 sulle dirette inseguitrici. Il quaresima periodo di preparazione alla Pasqua. Sono i 40 giorni che precedono la celebrazione della risurrezione di Cristo. Stando al rito romano la quaresima inizia il mercoledì delle ceneri e si conclude il giovedì santo. Nel rito ambrosiano la quaresima scatta la domenica successiva al martedì grasso fino alla vigilia di Pasqua. Il periodo è contraddistinto da funzioni religiose che ricordano la passione di Cristo ed in primis la via crucis del venerdì. Penitenza, tanta penitenza, che nell'antichità vedeva soprattutto il digiuno. In determinati paesi, un tempo, nel periodo quaresimale, la tradizione voleva che la gente si comportasse come se fosse tutto un periodo di lutto. Pertanto ogni tipo di divertimento finito il carnevale era considerato non consono ad un buon cristiano. Cambiano i tempi e le tradizioni. Oggi mangiare pesce, anche se che carne, costa di più che un tempo. E la credenza sottolineava come, e sottolinea, tuttora come la carne fosse un lusso e il pesce un cibo povero. Oggi parlare di astinenza, di digiuno è più difficile. Certamente costa più un'orata fresca che una fettina di vitello. Si cerca il nuovo, si rimuove la tradizione e la tecnologia pare diventato il cibo ricco di ogni giorno. Così il paroco di un quartiere genovese ha pensato bene di chiedere ai fedeli di fare penitenza, astinendosi dall'uso spasmodico dei social, della tecnologia e soprattutto di Whatsapp. Singolare, vero come penitenza? Il fatto è che il sacerdote ha lanciato l'appello non dal pulpito ma tramite Facebook. Duro, vero fare penitenza? San Giuliano, l'ospedaliere. Probabilmente visse nel VII secolo, ma la sua identità è incerta. Fu un nobile cavaliere, amante della caccia e di carattere vendicativo. Uccise il padre e la madre che dormivano nel suo letto, credendoli la moglie con un amante. Poi, accortosi dell'errore, si pentì e cambiò vita. Condusse una vita di espiazione e preghiera, trasformò il suo castello in un ospedale dove chi aveva bisogno trovava accoglienza. Una notte di tempesta, un lebroso bussò alla sua porta. Giuliano lo soccorse senza esitare. Il lebroso era Cristo, che lo benedisse e poi scomparve. Una reliquia del suo braccio sinistro, ritrovata nel 1442, è conservata nel Duomo di Macerata. Protegge gli albergatori, i viaggiatori, i pellegrini e i cacciatori e il patrono della città di Macerata.